Siamo arrivati all'ottava edizione del Fit Walking, la camminata per la vita, la camminata che fa beneficenza. E per la quarta stagione consecutiva si va a ritrovare gli amici della cittadina Isorso, che ospita davvero con grande piacere questa manifestazione e che già l'anno scorso ha registrato grandi numeri. Ne parliamo con Walter Falchi, presidente dell'MSP Italia, Sassari e Olgatempio. Grandi numeri anche quest'anno, Walter? Sì, ottava edizione della manifestazione del Fit Walking. Ovviamente ringraziamo il Comune di Isorso per ospitarci per l'ennesima volta, perché senza la collaborazione delle istituzioni questi eventi sarebbero praticamente impossibili. Sì, aspettiamo una numerica importante rispetto all'anno scorso. Ci sono 2.500 kit già distribuiti. Sarà sicuramente un bel evento. Un bel evento che abbraccia tutte quelle che sono le associazioni, che vi danno un supporto, chiaramente, ma soprattutto danno un segno importante di ripartenza dopo il periodo di pandemia, che peraltro ci ha davvero provato un po' tutti. È l'occasione buona per riprendere quello che è il discorso di socializzazione in primis. In un posto davvero incredibile, perché la location è di quelle importanti. Il Comune, l'hai già sottolineato, è un grande partner, però insomma tutto il lavoro, l'MSP, l'ho messo in piedi già da un anno. Beh sì, diciamo che il cuore pulsante di questo evento sono sicuramente le associazioni umanitarie che partecipano. L'evento nasce per loro e attraverso questo evento loro riescono poi a autofinanziarsi fondamentalmente i propri scopi istituzionali. Nasce proprio con questo scopo, a scopo benefico. E quindi ovviamente poi noi come organizzatori, noi, gli due eventi, di Lidia Russo e la scuola salata del Cammino, mettiamo in piedi, come detto giù, già da un lungo periodo insomma in cantiere l'evento. Poi per quanto riguarda il partner del Comune, il partner di lato del Comune, è evidente insomma, siamo quattro anni nel Comune di Sosso, perché loro ci danno un supporto veramente importante. E quest'anno ci siamo anche organizzati, perché? Perché sappiamo che dal punto di vista meteo non avremo gli scrosci d'acqua della passata edizione. Sì, diciamo che è previsto un bel tempo. Quest'anno abbiamo spostato l'evento di un mesetto, sperando nella buona sorte. Effettivamente il meteo ci dovrebbe permettere una giornata quasi estiva e quindi sono sicuro che verrà fuori una giornata meravigliosa. Ultimissima cosa, ci si reaggruppa intorno alle otto e mezza, come al solito, e poi la partenza ufficiale della manifestazione alla Marina di Sosso, ricordiamolo, alle ore 9. Sì, la partenza è alle ore 9, al terzo pettine in realtà, perché purtroppo per motivi organizzativi abbiamo dovuto spostare la partenza nel piazzale, nel parcheggio del terzo pettine. Dopodiché il percorso per tutti quelli che partecipano sono 6 km sulla pista ciclabile e poi si ritorna al punto di partenza per fare la festa conclusiva dell'evento. Buon divertimento. Grazie.